ciao a tutti e bentrovati sul mio canale youtube e andiamo a vedere insieme questo nuovo video bene facciamo questa focaccia con le cipolle questo è il mio lievito madre rinfrescato come sapete più di quattro ore fa almeno sei ore fa l'ho rinfrescato quindi prendo per prima cosa la parte per la ricetta e sciolgo il lievito madre semplicemente così con le mani è una ricetta che ho visto in tv però naturalmente l'ho modificata quindi l'ho personalizzata per usare la pasta madre ho cambiato qualcosina ok sciolto il lievito scusate mi sistemo bene il cellulare e ci aggiungo la farina io sto usando una farina zero però se volete fare una lievitazione più lunga usate una farina per pizza 00 aggiungo l'acqua ne metto prima un po poi poi metto altra acqua giro così semplicemente con un cucchiaio però poi continuo con le mani allora ne metto ancora e allora io avevo messo più acqua perché volevo rispettare le dosi della ricetta che avevo visto però poi alla fine ho aggiustato il tiro e quindi vabbè insomma nella descrizione poi vi ho messo la dose giusta allora metto ancora però ne lascio un pochino per quando metterò il sale quindi giro ancora beh se volete farlo con la planetaria potete fare potete farlo e non è un problema io la pizza sinceramente giusto qualche volta uso la planetaria anche perché quando la faccio faccio delle lunghe lievitazioni in questo caso no farò una cottura cuocio stasera quindi sto facendo l'impasto ogni mattina e questa focaccia la userò questa sera quindi per quello ho usato una farina zero zero se volete credo anche la una potete usare allora ci metto il sale ci butto sopra ancora acqua e continuo ad impastare così semplicemente il sale mi sembrava troppo anche perché io non amo mangiare troppo saporito quindi non lasciato un pochino però se voi non avete problemi mettetelo tutto tutta la dose allora ho messo un po' di olio sulla mano così vedete è un po' appiccicoso scusate dovevo mettere il malto anche prima vabbè lo metto adesso però meglio metterlo un pochino prima quando stiamo mettendo l'acqua mi ero dimenticata una puntina di malto la dose che ho scritto insomma per pesare il malto è un po' difficile però diciamo che è una puntina di cucchiaino metto anche l'olio non l'ho messo tutto l'ho messo un po' anche qui la ricetta che ho visto in tv ce n'era un po' troppo di olio anche perché ho modificato quindi magari mettendo meno farina e comunque ecco 35 grammi poi alla fine la dose è giusta e poi non l'ho messo tutto nell'impasto perché poi lo metterò un po' quello che rimane lo metto in ciotola e quindi comunque l'impasto se lo tira ok vedete è molto molto morbido molto appiccicoso ecco ho messo un altro pochino di olio continuo così con il pugno dopodiché mi fermo un attimo lo lascio riposare rilassare in una mezz'oretta e poi riprendo vedete già con la mezz'ora di fermo ho già diventato un pochino più elastico adesso con questo giro di pieghe diventerà vedete sta diventando setoso anche due giri di pieghe sempre con una mezz'oretta 20 minuti diciamo 20 minuti va bene adesso eccolo qua vedete ancora delle pieghe e vedete com'è bello liscio metto ancora un goccino dell'olio che è rimasto e questo è sempre l'olio dei 35 grammi diciamo poi se andiamo a vedere alla fine queste ricette di focaccia, pizza, presso a poco insomma variano di poco perché gli standard sono quelli eh allora adesso lo tolgo da quella ciotola perché la vedo un po' grandina e lo metto in questo contenitore dove ho finito di mettere l'altro quel poco di olio che era rimasto e lo metto dentro e lo lascio a lievitare fino al raddoppio calcolate che l'aria sta scaldando perché è mai fine maggio quindi quando vedete un video guardate sempre la stagione se è inverno se è estate perché in base alla temperatura l'impasto lievita di più o meno ok quindi io l'ho tenuto all'incirca cinque ore è cresciuto molto lievitato molto eccolo qua e adesso questa dose se vi piace la focaccia alta usate tutta la dose a noi piace un pochino bassina mio marito non ama la focaccia alta quindi ne ho tolto un pezzettino ne farò una più grande e una più piccola userò questa teglia questa teglia di 32 per 27 all'incirca quindi vedete non la copre tutta ma non importa ho messo sotto un po' di olio e l'allargo un pochino così scusate questo suolo è un po' vecchio però mi stacca bene la pizza si cuoce bene quindi lo uso lo stesso rispetto ad altri che ne ho nuovi che non vanno bene però questo va benissimo quindi vedete la mia non verrà alta di focaccia voi potete tranquillamente usare tutta la dose appena che l'allargo poco perché poi dopo questa deve lievitare un pochino facciamo come dice la ricetta due steppe quindi lascio così la copro con la pellicola e la lascio almeno un'ora bene intanto che passa quest'oretta mi preparo la cipolla l'affetto con l'affettatrice con la mandolina e preparo anche la salamoglia che è fatta di olio acqua e sale anche qui ho aggiustato un pochino il tiro poi alla fine ci ho messo meno acqua perché ho visto la dosa era un po' troppo acquosa la metto dopo che è passato il tempo sempre la riprendo e ci metto delle belle cucchiaiate vedete il composto della salamoglia schiaccio per benino faccio affondare bene l'olio dopo di che la ricopro e lascio lascio ancora una mezz'oretta giusto il tempo di preparare anche la seconda quindi anche meno di mezz'ora ecco vedete preparo anche questa qui la copro si l'impasto se volete potete anche usarlo tutto perché è preciso se la volete un pochino più alta purtroppo mio marito sia la focaccia sia la pizza la preferisce bassa e quindi mi devo mi devo adeguare perché poi la maggior parte la mangia lui io sono sempre un pochino attenta quindi passata quest'altra 20 minuti 30 minuti e metto sopra le cipolle o nel frattempo il forno l'ho acceso in modo che si scalda bene per benino a 2,50 2,60 anche sopra le cipolle metto ancora altra salamoglia eccola qua abbassa un pochino per far penetrare bene l'olio beh certamente non è di etica questa questa focaccia e con tutto questo olio ci metto un po' di pepe il pepe piace lo metto dappertutto ecco qua farcisco anche quest'altra velocemente intanto il forno si scalda per benino e quando è bello caldo vado ad infornare la prima quella più grande allora quando quando in forno la metto dieci minuti presso a poco proprio a contatto quindi sul primo piano intanto vedete la preparazione eccola qua la metto proprio a contatto così sotto diventa bella croccante ed eccola quasi cotta fra poco la tiro fuori l'ho tirata sopra vedete e sotto poi ho messo il secondo suolo se volete potete anche farla bruscolita un pochino di più se vi piacciono le cipolle più cotte bene adesso eccola qua la assaggiamo è venuta bene solo che è un po' bassina vedete sotto com'è bella cotta è un po' bassina infatti la focaccia di regola dovrebbe venire un pochino più alta però buonissima c'è un profumino questa cipolla ha rilasciato un profumo ottimo bene amici vi auguro una buona serata e io vado ad assaggiare subito questa pizza ci vediamo prestissimo per una per un altro video naturalmente vi invito a condividerlo a condividere questo video a lasciarlo like ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e a cliccare sulla campanella per poter ricevere le notifiche ciao ciao a tutti ciao a tutti